Grazie Presidente. Allora, il tema dei monopattini è un tema ovviamente molto sentito da questa maggioranza, c'è il Presidente della Commissione Stefano che ha fatto numerose commissioni, ricordo una commissione addirittura con 95 partecipanti su questo tema, spesso sono stati invitati anche i vettori per discutere e parlare proprio delle problematiche relative a quelle che sostanzialmente poi sono state anche evidenziate in alcuni interventi su questa mozione, ricordo una commissione nella quale sono state ipotizzate diverse soluzioni come per esempio di avere degli stalli, togliere degli stalli alle automobili per darle monopattini in modo tale che non si lasciano questi mezzi sui marciapiedi, altro tema che è stato correttamente anche accennato dal consigliere Figliomeni, ma lo ribadisco perché effettivamente è molto importante il rapporto con i non vedenti, cioè voglio dire con tutti coloro che camminano sui marciapiedi e si trovano questi strumenti e bisogna comunque trovare delle soluzioni. Io credo che correttamente poi c'è un altro fenomeno, purtroppo noi siamo in una nazione con delle persone capita spesso indisciplinate e lì allora bisogna aumentare i controlli come ha correttamente indicato l'assessore calabrese, abbiamo visto foto di monopattini con due persone, addirittura monopattoni a noleggio che poi venivano lasciati nei cassonetti, insomma c'è un atteggiamento proprio in parte da alcuni cittadini assolutamente indisciplinato e questo è ovvio che bisogna contrastarlo con i controlli esattamente come ha indicato l'assessore calabrese. Allora questa maggioranza pone un'attenzione molto elevata a questo tema perché è un tema che noi sentiamo, crediamo che la mobilità elettrica, la micromobilità elettrica sia una cosa importante sul quale bisogna lavorare e vogliamo che venga fatto assolutamente in sicurezza. Ci sono alcuni aspetti della mozione che condividiamo, altri le condividiamo meno, pertanto noi consegniamo un voto di astensione a questa mozione ma l'impegno per trovare una soluzione su questo tema è assolutamente costante e totale. Grazie.